Ciao ragazzi, in questo bellissimo inverno milanese, siamo in estate ma siamo come in inverno, abbiamo decarbonizzato un mezzo di pochissimi chilometri, forse neanche 10.000, 10.000 sono già tanti. Il discorso è fare sempre i lavori per mantenere sempre pulito, perché se tu hai un vestito pulito, bianco, lo lavi anche se comunque è bianco ed è pulito, non è che io non lo lavo perché è bianco, allora chi se ne frega perché tanto è bianco, lo tieni sempre in bianco e quindi lo pulisci, quindi lavorare con la decarbonizzazione su mezzo magari giovane che ha pochi chilometri non è sbagliato, anzi è giustissimo, perché mantieni sempre la pulizia all'interno della meccanica, in questo caso è un motore benzina, fosse stato un diesel ancora meglio, perché ricordiamo che il diesel appena metti l'olio motore, quindi fai il cambio dell'olio, accendi la macchina, vedi subito che l'olio è già nero, ma non perché è nero perché fa schifo l'olio, perché purtroppo si sporca, ok? Parliamo del diesel, benzina è diverso. Allora abbiamo decarbonizzato grazie a Flexful, l'iCarbo Connect, grazie al nostro tablet che comanda tramite OBD tutto il quadro della situazione, questa macchina come dicevo pochi chilometri, Alfa Romeo Stelvio con decarbonizzazione di circa dal computer, perché fa tutto automatico, 30 minuti, ci sta dai, in più abbiamo fatto anche step 1, step 2, step 3, step 1 engine turn up per poter pulire, step 2 benzina in Eccion dal serbatoio e chiaramente l'ultimo step decarbonizzazione, siamo già pronti per fare il tagliando. A dopo! Ah, ciao ragazzi, abbiamo finito l'idrogeno, eccolo qua, l'impostazione per quanto riguarda 18%, 12%, come avevo già detto all'inizio del video, macchina perfettamente in ordine. Continuiamo, lasciamolo qua, la decarbonizzazione che andrà al cliente perché viene generato un report per email, quindi il cliente ce lo può già aprire, quindi a livello PDF sul proprio computer o sul telefono, oppure lo stampiamo a livello cartaceo. Continuiamo la manutenzione, chiaramente ordinaria, non straordinaria di questo bellissimo Alfa Romeo Stelvio, benzina, filtro dell'aria, come vedete è perfettamente ancora bello, filtro dell'aria nuovo, gli oli, questa è già una ottima qualità che si va a dare perché chiaramente eleviamo, eleviamo l'olio, quello vecchio, quello stock della casa madre, mettendo un olio sicuramente superiore che per esempio, come sempre, il Bardal, 030 F950 A, 030 anche perché la macchina è start e stop, ricordiamo il 030 molto liquido, si utilizza un Tecnos M+, quindi già la nuova formulazione di Tecnos, andiamo a vedere poi anche soprattutto le specifiche, ACAC2, Ford, SAE 030 e Fiat, vedete, 955535 GS1 e poi c'è anche l'altra specifica, quindi come vedete noi utilizziamo, perché è macchina ancora in garanzia, o l'olio della casa madre oppure l'equivalente con le stesse specifiche gradazioni che chiede, in questo caso, Alfa Romeo gruppo FCA. Filtri dell'aria, stessa discorso, quindi o uguali, quindi o originali FCA, in questo caso Alfa Romeo, oppure equivalenti, abbiamo utilizzato per esempio la Man Filter che è assolutamente una grande società. Abbiamo anche qua poi il filtro dell'abitacolo che poi andremo a concludere tutta la filtrazione, stiamo cominciando a versare i litri totali della macchina, il filtro dell'olio è già dentro, non c'è niente da segnalare per quanto riguarda questa macchina che è nuova, poi andremo a fare anche una bella pulizia un po' anche sulle plastiche, comunque ci sta, e io come abitudine lavo sempre i tappi con il mio liquido pulitore dei freni, così è sempre preciso, parliamo della parte qua ovviamente dove va la guarnizione e tutto, gli ho dato una bella pulita, anche il tappo quello di scollo della coppa, ma io penso che sono perfettamente a regime, poi andiamo a concludere, diagnosi elettronica grazie al nostro Bosch KTS e abbiamo concluso, poi fattura al cliente tutta l'applicazione che adesso vi faccio vedere dal meccanico, che stiamo continuando a inserire tutte le fotografie di tutto il processo di lavorazione che è veramente un lavoro super mega figo e il cliente ovviamente apprezza quello che stiamo facendo perché lui è in ufficio e sta vedendo effettivamente quello che stiamo facendo, passo dopo passo fino ad arrivare alla conclusione, che la conclusione è la nostra pulizia e igienizzazione del veicolo, eccolo qua, vediamo qua le foto della macchina e come vedete tutti gli interventi che stiamo andando passo dopo passo a concludere, andiamo per esempio qua, clicchiamo il nuovo filtro per esempio dell'olio, vedete il montaggio del filtro dell'olio e poi si ritorna ovviamente perché dobbiamo ancora finire tutte le fotografie, ok? Bene, sicuramente è una cosa molto utile. bene, allora io vado avanti, ciao ragazzi, a dopo, vado avanti scusate, intanto stavo spettando, scusate, allora abbiamo finito, abbiamo finito, conclusione è la diagnosi quindi vediamo se ci sono tutti gli errori e chiaramente sempre resettiamo le spie. attenzione, questa macchina del gruppo FCA c'ha blocco gateway, quindi abbiamo connesso il nostro Bosch KTS con lo sblocco e andiamo a fare il reset elettronico della diagnosi e in più vediamo anche se ci sono errori non ce ne sono errori ragazzi, la macchina è nuova, però per prassi, chiudiamo, andiamo a vedere, dai! bene ragazzi siamo dentro il KTS della Bosch, abbiamo già inserito le macchine, i nostri 30 veicoli già fatti, le nostre diagnosi, Alfa Romeo e Stelvio, andiamo a vedere, apriamo dentro sblocco veicolo, attenzione perché il gruppo FCA ha tutti i blocchi, quindi Jeep, Alfa Romeo, Lancia e Fiat hanno tutti i blocchi gateway e quindi noi fortunatamente abbiamo fatto un investimento giusto, abbiamo sbloccato grazie al KTS andiamo avanti controllo accesso di internet, sblocco del veicolo in corso bene, siamo dentro, andiamo in riparazione azzeramento service, ricerca sistema e abbiamo quello che ci interessa come dicevo prima, il discorso degli errori di agnesi non ci sono perché la macchina è un uomo di PAC ma potrebbero esserci perfetto, avviamo collegamento, identificazione, adattamento, impostazioni ripristi dell'indicatore intervallo di un'utenzione avanti andiamo ancora in avvio stiamo leggendo i dati andiamo ancora avanti perfetto, abbiamo completamente azzerato tutto, vedete già 15.000 km restanti i giorni, ti dà anche i giorni, tutto per bene come ovviamente dice casa madre Alfa Romeo bene andiamo a fare anche la ricerca dal computer della macchina e andiamo a vedere proprio anche il chilometraggio azzerato e i 365 giorni l'anno quindi entro un anno rifare la manutenzione ordinaria ragazzi io spero di avervi dato ancora un'ultima mano adesso poi aggiorniamo ancora la nostra applicazione che il cliente può vedere di tutto il processo di lavorazione compreso anche l'azzeramento del service lo andremo a mettere sull'applicazione dalmeccanico.it per concludere la scheda poi a fine verrà generato un pdf oppure il cliente se lo vuole mettere su chiametta usb gli gireremo il file tramite whatsapp o email come vuole bene ragazzi come sempre San Zeno nell'Ambra via primo maggio al civico 16 Officina fa per tre un bel like su facebook io RGC i miei quattro social facebook, youtube, instagram e tiktok mercoledì 18.30 sempre le mie dirette live intanto che voi vi riguardate tutto quanto io ando avanti con il mio gameboy a giocare Mario Bros ciao ragazzi alla prossima ciao vai 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 ciao ciao Grazie a tutti.